Scena 6, esterno scuola, giorno ciaccuno. Azione! Al via il 21 marzo il fortunato format Ciac Sigita, il campo scuola ideato da Promogite Film Studio, che consiste nella realizzazione di un cortometraggio durante una visita di istruzione. Il primo istituto che ha battuto il primo Ciac di quest'anno è stato l'istituto comprensivo Gualdo Tadino in provincia di Perugia, con la terza C e la terza F, accompagnati dalla docente referente Nadia Ascani e altri docenti. Gli studenti hanno realizzato il corto dal titolo Alice e Marco, con il supporto di Raffaella e Andre Giaccio, rispettivamente regista e operatore dell'opera filmica, e del tour operator Francesco Cairone, organizzatore della produzione. Il microfilm, girato ad Agropoli, racconta la storia di Alice, che a causa di un problema fisico viene esclusa dal gruppo classe. e tende ad isolarsi. La ragazza, per non andare in depressione, si dedica allo studio. Grazie ad un nuovo compagno di classe, Marco, nasce un'amicizia che l'aiuterà a riacquistare fiducia in se stessa, dimenticando il problema. Tutta la troupe, i protagonisti, i textager. Di che? Che fai tu? Sono elettricista. Sirei la giraffa. Micronista. Tu che fai? Io faccio colore di luce. Tu che fai? Apparo il sole con i pannelli. Tu che fai? Giornalista. Tu che fai? Al palazzo di luce. Allora, tu sei il protagonista, com'è fare questo ruolo? Ti piace? Allora, secondo me è un ruolo molto importante. E poi mi piace stare insieme ai miei compagni di classe e poi anche recitare davanti a un pubblico. Inteligente. Pensi che questa attività sia molto importante per noi studenti? Allora, secondo me sì, perché a livello sociale una persona può migliorare. Alice, che ne pensi di tutto questo? È un po' bello. Sei contenta del ruolo? Sì. Prof, che ne pensa del suo ruolo? Fantastico. Aspettavo un'altra occasione per dimostrare all'inizio dei miei compagni. Allora, voi fate parte del gruppo delle comparse. Cosa ne pensate di questa attività e anche di questo ruolo? Beh, penso che sia un bel progetto che può dare anche opportunità per capire quello che a uno gli piace o una passione che può coltivare anche in futuro. e quindi dobbiamo fare una base scura e poi andare a, anche perché lei fortunatamente ha una pelle abbastanza chiara, quindi non dobbiamo andare a schiarire, ma dobbiamo solo andare a pulire le zone che vogliamo far diventare macchie. Il teatro è molto strutturato bene, è molto bello anche come scuola. Anche il ruolo delle comparse è molto bello perché fai il gruppo insieme alle altre. Ti è piaciuto partecipare a questo progetto? Sì, molto. Allora, qual è il tuo ruolo in questo progetto? L'ho dato una mano con le luci, quindi ho dovuto aiutare il reparto tecnico. Cosa ne pensi? Quali sono le tue aspettative oppure le cose che non ti aspettavi, ti è piaciuto? Divertente, sì, soprattutto quando hanno registrato la parte fuori e per il resto non mi aspettavo niente. Cari, sei divertito? Un sacco. Lei è? Emma. Che ruolo fa? La bulla. Lei è? Melania. Che ruolo fa? La bulla. Questa bulla? Lei è? Io, Sam. Che ruolo fa? La bulla uno. Una a quattro, c'è uno. A che ruolo fa? Naturalmente. Questa volta il tuo ruolo di zona più rasse è stato diventato. Grazie. Pac! Ciacc. American. Sì!